Quando Pasolini mi ha chiesto di produrre il secondo film insieme a lui che si chiama Corcine gli ho detto questo film io non lo produco se ci sono altri che sono più bravi di me se nessuno ha il coraggio di produrlo io lo faccio e infatti Pasolini ha fatto questo film che per la storia d'Italia, per la storia europea è un film molto importante perché nell'Italia negli anni 60, che è un'Italia democratica cristiana, bigotta Pasolini ha avuto il coraggio di fare un film sull'omosessorismo